Per i giardini La Mortella il 2014 è stato un anno particolarmente fortunato, direttrice. Sì, infatti al contrario del trend non particolarmente felice del resto dell'isola, noi abbiamo registrato un incremento di quasi il 15% dei visitatori. Tante le iniziative che avete messo in campo, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista proprio pub botanico. In effetti, abbiamo iniziato già l'anno con le aperture invernali, che poi proseguiamo anche quest'anno, quindi offrendo al pubblico la possibilità di visitare il giardino in un momento un pochino particolare, per vedere fioriture che di solito non sono note, non sono riconosciute, perché la gente non va per giardini in inverno. E poi abbiamo proseguito con corsi di pittura botanica, con i nostri consueti concerti di un ricchissimo programma musicale che ha portato quasi 54 concerti nel corso della stagione. C'è stato un masterclass di voce operistica, ci sono state visite guidate particolari, offerte al pubblico in alternativa alla visita libera che diamo sempre a tutti i visitatori. Quindi è stato un programma piuttosto ricco ed intenso, oltre alle borse di studio, le tesi di laurea, le altre attività culturali che forse non sono visibili, ma che poi formano un po' l'ossatura della nostra attività. Tra l'altro, proprio nel 2014 e proseguirà nel 2015, è nata anche una maggiore sinergia tra i giardini La Mortella e anche le altre istituzioni culturali che sono sull'isola. Sì, infatti all'inizio del 2014 abbiamo creato una brochure che si chiamava Le Sette Perle, quindi per indicare proprio sette entità culturali importanti dell'isola. Una brochure che quindi era finalizzata a far conoscere ai visitatori questo aspetto, che forse rimane un po' il secondo piano rispetto alla straordinaria offerta turistica delle spiagge o delle terme, ma il visitatore ha bisogno anche di fare cultura, anche di vedere posti che nutrono lo spirito oltre il corpo e quindi presentargli i giardini La Mortella, i giardini Ravino, la Fondazione Visconti, Castello Ragonesi e gli altri è stato un modo proprio per invitarli a riflettere e a vivere l'isola in modo un pochino diverso. E questo sarà un po' il solco su cui continuerà anche il 2015? Noi lo speriamo perché poi unirci con le altre realtà che appunto fanno cultura e quest'isola vuol dire anche giocare una carta in più, farsi conoscere e dare qualche cosa di più alla gente.